Tu non puoi essere l'impostore perché sei già stato, lo sai questo? Lo so, lo so perfettamente, lo so, lo so. Allora sei tu, Cico? No, assolutamente no, ti stai sbagliando di grosso. Ti potrò posso dimostrare, guarda, no. Allora farò prima una domanda ad Alex, una domanda tattica e molto interessante. Vai, dammi la domanda, dammi la domanda. Alex, sei disposto a giurare sul nuovo album di Figurina e Laioniche che trovate anche questo in edicola? Vabbè, sì, sono disposto. Ok, sei tu l'impostore? Non sono io l'impostore, ti giuro e penso sia Cico. Molto bene, mi raccomando, l'album lo trovate in edicola. Dovete praticamente svaliggiare le edicole perché tra il giga poster e l'album... Oh, non vi chiedo, insomma, di spendere i milioni. Però l'album è gratis, quindi andate a comprare. Dentro trovate anche un fumetto, quindi, insomma, c'è di tutto e di più. E poi le figurine, chiaramente, le dovete comprare, eccone una. Guardate come sono! Mmm, mmm, come sono belle, mi piacciono. Oh, l'ho mangiata, l'aste mangiato? No, non l'ho mangiata. Cico, sei tu.